Il rientro di Bergamelli In mezzo al campo ballottaggio da Silva a De Cecco Nell'Andria non ci saranno i due infortunati Poluzzi e Colella E ottime notizie per i tifosi del Catania che potranno seguire in diretta video la gara di Andria Domenica si inizia l'evento incollante Prima Sport Sicilia Fischio d'inizio alle 20.30 con i supporti rosazzurri Che avranno quindi la possibilità di vedere in esclusiva la propria squadra del cuore in diretta video dalla Puglia Per chi fosse impossibilitato a seguire la nostra diretta in tv Potrà sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Telecolor Per non perdere neanche un momento della sfida tra il Catania e l'Andria